Loco, oggi andremo a sconfiggere i creeper degli youtuber Abbiamo 5 minuti di tempo per cercarli all'interno di questa caverna Scoprirai cosa vuol dire cercare le uova Perché dovrei rompere ogni singolo minerale Come in questo caso No, 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 ladro, stai fermo Che uova ti è arrivato? Ok Oh, interessante, fermo Abbiamo 5 minuti di tempo Ora, queste uova che abbiamo ottenuto entrambi le mettiamo direttamente via Quindi mettile qua via, subittissimo, Loco Dove sei? Vieni qua, vieni qua, vieni qua, mettile via Campioncini, lasciate un mi piace Nel prossimo episodio, se questo video supera i 1000 mi piace Metteremo i warden degli youtuber Vai, parti, Loco Allora, con calma Cosa vuol dire che andremo a sfidarli? In pratica, in questo momento, campioncini Dobbiamo rompere tutti i minerali possibili Raccogliere le uova di vari creeper che in questo momento stiamo ottenendo Poi, alla fine di questi 5 minuti abbiamo una ruota che deciderà Quale sarà l'uovo fondamentale da contare E chi ne ha di meno subirà una prova molto aggressiva Dovrà sopravvivere in un'arena PvP Contro tutti i creeper che sponerà l'altro youtuber, Loco Beh, Loco, qua siamo tutti quanti randomici Io sto rompendo il coal su coal E per adesso ho trovato uova di creeper di Kendal Di Steph, di Nico, di Marci Quale uova vuoi che testo direttamente in video in questo momento da far vedere i campioncini? E' quello di Nico, dai Ok, quello di Nico Allora, quello di Nico ce l'abbiamo qua davanti ed è quello verde Eccolo qua, ciao creeper di Nico Allora, con calma che io c'ho l'armatura in diamante Dovrebbe esplodere tra poco Ok, sta per esplodere Ok, è esploso E mi ha droppato una spada incredibile Il creeper di Nico mi ha droppato la spada del creeper Fa 20 di attack damage, Loco Ed è bellissima, campioncini In questo momento l'obiettivo nostro è quello di rompere più minerali possibili Perché dopo io, Loco, voglio spawnarti più creeper possibili Perché voglio vedere... No, no, io sono più fortunato di te, caro buon Loco Vedremo, vedremo Sono super più fortunato di te E sono curioso di vedere anche la tua reazione E vedere tutti quanti i vari creeper Ovviamente, se per esempio la ruota deciderà Che dobbiamo contare le uova di Kendal Nell'arena, io o tu potrei spawnare solo le uova di Kendal E il mio obiettivo è quello di sopravvivere Se sopravvivo io, faccio un punto Se invece vince lo youtuber che è all'esterno che spawne i creeper Fa lui il punto Capito, buon Loco, le regole di questo gioco? Capitissimo, ma posso spawnare l'increativo quanti ne voglio? Certo, ovviamente Deve essere una sfida trappola questa, Loco Beh, vedremo, vedremo, vedremo chi ha ragione Come ti sta andando la ricerca dei minerali in social, Loco? Ho trovato un bel po' di diamanti Ok, diamanti già in superficie Sì, in superficie Come hai fatto, Loco? Stai citando di già? No, non sta citando Ragazzi, se fosse in spettatore l'avrei visto subito dalla barra Ma purtroppo, Loco, non sta citando in questo momento Anzi, ho anche il comando attivo per vedere se si mette in creativa Quindi, Loco Per favore, fai il bravo Perché qua è fondamentale Non cito mai Su questa cosa qua ho un po' da ridire Ma fammi un attimo un conteggio Per esempio, quante uova hai di fere in questo momento? Tredici Tredici? Ottimo, sono già in vantaggio È vero! Quanti diamanti ci sono qua in alto? Visto? Non sono pazzo Allora, sparami tu un uovo di un creeper in particolare Che poi magari spawniamo Vai Eh, Steph Allora, di Steph Io ho 14 uova di creeper di Steph Ah, sono in vantaggio io Quante ne hai scusa di Steph? Eh, 16 Vabbè, allora a sto punto ragazzi facciamo così Facciamo anche un piccolo test del creeper di Steph Che ho paura che c'entri un pochino col... Mi ha tolto metà vita, Loco Il creeper di Steph Con l'armatura in diamante ti toglie metà vita e tantissimo Ok, vabbè, ci sta, ci sta, ci sta Allora La gentilezza tra noi amici, no Non esistra la gentilezza, Loco, in questa sfida Io ti devo distruggere Voglio vincere questa sfida Ma in tutto ciò, Loco Io voglio farti comunque delle domande mentre il timer scorre Qual è il tuo youtuber preferito? E campioncini scrivetelo anche nei commenti Mi raccomando che vi lascio un cuoricino Se è DeMarco vi lascio anche un commento Dicevi, Loco Il tuo youtuber preferito è Loco No, scherzo, dai Allora, se devo scegliere davvero l'unico che seguo è MrBeast Ah, beh, ci sta, Loco, ci sta Ma anche se non parli inglese, Loco, ci sta, dai I speak English very well Ah, ok, 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 vabbè Allora, io proseguo intanto dopo questa cosa qua Il timer credo che manchi veramente pochissimo E poi andremo a fare questa sfida, eh Perché qua Se c'è Loco ti demolisco completamente Ma tu l'hai già testato il creeper di Loco? No, 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 però ne ho più di 30 Ne ho più di 30 di Loco? Eh Urca, no, io ne ho 24 Devo muovere No, 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 no Scusa, tu qual è lo youtuber che hai di più? È Loco Ah, è Loco Io a Fere 35, credo Eh, buono, buono Eh, pesante, pesante, ragazzi Loco è stato in vantaggio Perché io mi sono fermato A testare i creeper Dannazione a te E tu invece no Sei rimasto lì A scavare i tuoi diamanti I tuoi minerali Ma per me non ho trovato una caverna Ma smettila, va Loco Guarda, sei un truffatore come sempre Va Raccogliamo qua, ragazzi Ho trovato una bella Primo round, ovviamente Perché poi ce ne saranno altri Decidi la ruota, Marco No, ma certo, certo Ma con la sfortuna che ho ultimamente Con la fortuna che tu hai perennemente Stop È il tempo finito Andiamo a scoprire chi ha ragione Ci siamo, campioncini Giriamo la ruota e scopriamo Quale youtuber dovremo contare Nei creeper Loco, sei pronto? No, paura Io non ho veramente parole, ragazzi È uscito, è uscito Loco Lokis Allora, vediamo tu quante ne hai 45 No, ragazzi Io ne ho 33 Cioè, è assurda questa cosa Probabilmente ho più uomo di te degli altri Infatti di Kendall ti ho distrutto Di Marci, ragazzi Ce ne ho 12 in più Sono tantissime Loco, sei un dannato schifoso Ehi tattuto in tutto Tranne Tranne nelle tue Siamo pronti? Io vi mangio una mela d'oro Allora No No, no, no Loco, non vedo nulla No, Loco, no No, Loco La tua testa non mi fa vedere niente Hai la mia testa Che figlio Allora, potrei mettermi in F5 E guardare Ma non lo farò, Loco Quindi puoi piazzarmi creeper Anche Aia Dietro le spalle Schifoso No, Loco No, Loco Aiuto No, 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 no Calma Me ne andiamo a andare No, 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 qua hai rotto Hai rifatto Me ne devo andare Aia, 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 aia No, ce la faccio Ma in realtà sto prendendo pochissima vita, Loco Grazie All'absorption Ah No, 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 c'ho tre cuore e mezzo Via Via Me l'adoro Me l'adoro, me l'adoro, me l'adoro, me l'adoro, me l'adoro No, no, aiuto Guarda quei sei uno schifoso, eh Sei uno schifoso No, no Di qua vedo che c'è un buco Qua c'è un buco, Loco No, no, schifo No, Loco Non ci provare Guardalo Mi mangio un'altra vela Loco avevi avuto quel momento esatto Dove poterli spawnare Quattro quari e un creeper sarebbe stata la mia fine E un punto per te Ti è andato male No 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 quanto manca sta fine di un minuto Via andiamo di qua Stop Ce l'ho fatta mi hai ucciso dopo Vai loco si parte Allora abbiamo 5 minuti Io sto nella mia caverna di prima Perché mi ha portato comunque fortuna Nella sfortuna loco Cioè tu sei stato fortunato perché la tua A sto giro era quella decisiva Ma sappi che nella ruota non potrà più uscire un loco loco Chissà Vedremo Quale sarà il prossimo creeper Sappi che gli altri saranno molto più aggressivi Loco Cos'hai trovato? Ho trovato tutto coal Ovunque c'è piena Ma infatti io sto notando che c'è un sacco di coal In queste caverne loco Non so È magico È un po' magico come coal Comunque Mentre stiamo scavando ragazzi Voi ovviamente dovete commentare con quello che vi ho chiesto Quindi col vostro youtuber preferito E anche un motivo magari Cosa vi piace di quello youtuber Mi piacerebbe molto saperlo in generale Non per forza che debba essere io Perché il mondo è bello Perché vario Ci sono un sacco di gusti Vi possono piacere tantissimi youtuber Loco Hai invece uno youtuber italiano Che appunto ti piace tanto O che ti piaceva tantissimo ai tempi Che adesso magari segui un po' di meno Ma ti è rimasto molto nel cuore Dicci pure Qua stiamo parlando di cose interessanti Mentre ti voglio distruggere Molto fan dei mates Ah ci sta Ci sta Ma eri anche molto fan di Marci Se non mi sbaglio Anche sì Anche di te Marci Ah sentite ragazzi Loco che Ho seguito la prima pixel Montale d'inizio Sentitelo Sentitelo qua questo Loco Che fa tanto il gradasso Nei video Ma in realtà Parte che era molto fan Eh sì 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 Però ci sta Adesso invece no Vi odio tutti Ah ragazzi Loco ha appena dichiarato Che ci odio a tutti quanti Quindi sapete Nel caso Chi minacciare Sotto i video Quindi se volete minacciare Loco Nei prossimi video Fatelo pure Avete un po' anche il mio permesso Ovviamente nel chilling ragazzi Però Loco Come sei messo adesso Alla ricerca Qual è il tuo uovo Più predominante Fere Un 18 Uuuuh Allora il mio Aspetta che sto scavando Ho un 23 Di Steph Che è strano Non l'avrei mai detto Che Steph Ha il 23 Poi ho Kendal a 20 Nico a 14 Ho te a 15 Te È tappissimo Sì sì Io però sono curioso Perché sai cosa Quella spada di Nico Vorrei utilizzarla Nel caso mi capitasse In arena Comunque sono un punto in avanti 1 a 0 Siamo qua Loco Mi dispiace per te Però Per me è ingiusto No no Per me Loco era scarso Dai Per me è solo Che è giusto Loco Poi sei te che stai dicendo Che il tuo uovo di creeper Era scarso Per me Era abbastanza forte Certo Ce ne sono altri Che magari sono un po' più potenti Loco Però Però ci sta Ci sta Allora qua Io raccolgo Altro coal Perché sembra la caverna del coal Però io vorrei andare magari A cercare il diamante Perché secondo me Magari il diamante Potrebbe essere Pieno Tantissimo È pieno di diamante Ma scusa Io ho notato che anche se scende Di qualche blocco così C'è proprio un botto di diamante Coal Ce ne è tantissimo È una roba incredibile Quanto toccolo ci sia Uh eccolo qua infatti Diamante Ottimo Prendiamo tutto quanto Magari il diamante Ce ne droppa anche di più No Sempre uno ne droppa Giusto? Sì Sì Mi sembra di Ok 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 Vabbè Loco Quindi il tuo youtube preferito È mister beast Mi sta dicendo È l'unico che segui proprio Cioè Nel resto non guardi video Non ho il tempo di vivere Ma come non è il tempo Loco Devo fare i video E non ho il tempo Neanche di dormire Devi guardare Devi guardare i miei video Loco Devi fare un sacco di cose Esatto Mettere like a tutti i video di Marco Dovete farlo anche voi quello Bravo Loco Mandiamo il messaggio corretto Per favore Ai nostri campioncini da casa Sempre Lasciare mi piace ai video Perché quella cosa lì Ci dà un supporto in più Al canale Se arriviamo a Mille mi piace in sto video Allora Sponerò un creeper In casa Marco Non credo che Vabbè Loco Voglio capire dove lo trovi Un creeper nella vita reale Però ragazzi Mi lasciato mi piace Mi raccomando Che è una cosa veramente fondamentale Però ci pensi Cosa è un creeper nella vita reale Come sarebbe Cioè sarebbe Un mondo Va rotoli Sarebbe veramente Un gran problema Loco Un creeper nella vita reale Se ci pensi Sarebbe un po' spaventoso Anche Però io già vedo te Quindi in quel caso Un po' Mi sembri un po' un creeper Sì dimmi Il creeper è nico In realtà io sono rosso Puoi scambermi per un gas Ma i gas sono bianchi Come fai a dire Che i gas sono rossi Loco No perché la mia faccia Nella skin è bianca Ah Sei un po' criptico te Loco eh Cioè Un po' un po' Un po' particolare Sono criptico ma non sono creeper Qual è in questo momento Loco il tuo uovo più predominante Fere a 49 Urca A 40 Quanto 50 adesso Quanto 51 Quanto Ma stai trovando solo fere Guarda io ragazzi Sono sicuro Che questo va a trovare Solamente fere a un certo punto Ma è Marcia 54 Marcia 54 Ma sei matto Cioè non stai facendo nient'altro Che scavare Tra l'altro po' non respiri nemmeno Non ho mai smesso Non ho mai tolto il dito dal mouse Ma tu sei impazzito Loco Mi pare A quanto veramente Esageratissima Come cosa Inopportuno Inopportuno Anche inopportuno Inopportuno Allora qua io continuo a scavare Accogli le ultime uova Loco E fermati istantanamente Altro giro di ruota Scopriamo Ragazzi Chi andremo a scegliere Tra l'uovo di youtuber Mi dicevi prima Loco Che è lo youtuber Che più hai trovato È Marci Secondo è Fere Secondo te Chi è uscito tra i due Secondo è Steph Secondo è Steph Ragazzi Loco Ha vinto Ti ho battuto Di tutto In tutto Ti ho battuto Mi ha battuto in tutto ragazzi Tranne Kendall Tranne Kendall Allora va bene Loco è un minuto di tempo Per prendere le uova di fere No di fere Ragazzi Situazione veramente molto pericolosa Perché a questo giro Non abbiamo più mele d'oro Ma solo carne Quindi la sfida è ancora più difficile Partiamo Tra 3 2 1 Allora I creeper di fere Sono un po' particolari Perché spawnano E ci mettono un po' ad esplodere Ma non so se hai notato Loco Hanno un potere esplosivo Veramente anomalo I creeper di fere No 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 Allora Aia No loco Allora eh Diamoci una calmata No 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 Attento 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 a un tubo Attento Quanto me ne è spawnata da questo lato C'è una metà vita No no Quando inizia a cadere qua sotto un disastro Se non buco Se non buco No no aspetta 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 Devo uscire Devo uscire dal buco Devo uscire dal buco Devo uscire dal buco Devo uscire dal buco Devo uscire No Dannato vetro verde Loco abbiamo due minuti ora eh Io devo distruggerti Siamo 1 a 1 E l'ultimo round È questo Ed è quello decisivo Quindi Io ti voglio distruggere in questi due minuti Perché voglio trovarne molto di più Ho già trovato due marci Sappi che ora sarò veramente aggressivo Non mi schioderò da una vena di coal Neanche se mi mandi un bonifico Da 100 euro Cioè ti avviso loco Un bonifico 100 euro No no loco Non credo Non credo No grazie mille Per questa offerta Guarda più il telefono Non mi è arrivato loco Mi spiace l'avrei mandato a un fan Perché a me non mi è arrivato niente Comunque Io trovo già una bella vena di coal In questi due minuti Voglio concentrarmi A fare nessun discorso Se non trovare queste uova Di creeper Quindi per adesso abbiamo fatto Te Oddio no Marco Che è successo Che è successo campione Guarda di due te Cosa c'è No non guardo No non guardo Non esiste nulla Ma in camera tua dico Ah no 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 Non c'è neanche marci in studio Quindi non può succedere nulla di strano Allora Dicevo Che avevi visto quello di ferre E quello di loco Qual è quello che ti è piaciuto di più loco Quello di ferre era Iper esplosivo Eh Sgravo Eh sì Ma in realtà Il potere di ferre Era anche un po' nascosto Perché non te l'ho detto Ma in realtà Se tu lasciavi spawnare Un solo creeper di ferre Avevi già vinto Perché cosa succede Col creeper di ferre Se esplode da solo Lascia un 25x25 Di TNT Che poi Fa una maxi esplosione Certo Il creeper in sé Se avete notato Campioncini Già aveva un'esplosione Super maxata Però Era iper maxata Se Fosse esploso da solo Eh 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 Loco Mi dispiace Che tu non lo sappia Ora comunque Il punto te lo sei fatto Perché mi hai eliminato Da nazionale Ecco il buco Però vabbè Va bene va bene va bene Come ti sta andando Dalla ricerca Un campione Allora Fere è sempre quella al top Davvero Però Fere è bannata adesso Eh Loco e Fere sono bannati Lo so che è bannata Purtroppo Ebbene sì Ebbene sì Io continuo qua a scavare Prendo tutto quanto Avevamo solo due minuti Loco quindi il tempo Sarà già per terminare Davviso caro Loco quindi Cerca di prendere Meno uovo possibili Cerca di essere anche abbastanza No sfortunato Devi essere No no Deve essere fortunato No 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 Loco raccogli tutte le uova Che hai lasciato in giro E iniziamo Il conteggio finale Ultimo giro di ruota Vediamo cosa uscirà Per noi Scopriamo Il nostro amico Kendal È l'uovo prescelto Di Creeper Kendal ne ho 20 Tu quanti ne hai? No vabbè ragazzi Ah no 21 Ah ho sbagliato Questo fosse Steph 21 non ci credo Che fortuna Io non ho parole ragazzi Dovrò soffrire pure Kendal Ma sarà il round Finale Loco sei pronto? Vai Loco Puoi spawnare Quanti Kendal vuoi Vediamo Oh che figo Non mi ricordo Però Kendal cosa combina Quindi è meglio che me ne vado Ci ho già metà vita Ci ho già metà vita Bene bene così No no bene un tubo Oh Cosa sono questi? È il metto protettivo? Aspetta 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 sì Aspetta 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 Perché voglio cercare il metto Con blast protection c'è Vediamo Blast protection Sì ce l'ho Non mi fa danno Mi protegge Ok Oh È devastante Non perdo cuori Come non perdo i cuori? Cioè li perdo No 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 Aiuto 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 No ne perdo loco Ne perdo però ne perdo No 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 I buchi Bisogna stare attenti Dicevo Ne perdo ma molti di meno Ok devo mangiare No il buco Oh no 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 Oh metà vita Grazie loco No no Non ce la fai 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 Ah Devo mangiare però Perché ho già perso due cuori e mezzo Quindi mi devo fermare No devo mangiare Devo mangiare No 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 Metà vita Metà vita Come fai? Ho 5 cuori e me ne vado Non mi trovi Eccolo il metto è troppo Pico Alexa stop Dai Ho vinto Questo il metto ragazzi Mi ha salvato la vita Perché ha Blast Protection 6 Quindi Ma non esiste neanche Me la son giocata molto bene Campioncini Spero che questo video Con i creeper degli youtuber Vi sia piaciuto Noi ci fermiamo qua Ci salutiamo E ci vediamo in un prossimo video esplosivo Ciao